Buon pomeriggio e bentrovati da Serena Russo al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. Apriamo con la politica, per ora conta 13 firme, quelle dei componenti del centro-destra al Comune di Bari. La mozione di sfiducia al Sindaco Emiliano presentata questa mattina dall'opposizione per farla prodare in Consiglio Comunale ne servono almeno 18. Vediamo il servizio. Come promesso questa mattina tutti i consiglieri di centro-destra al Comune di Bari hanno sottoscritto la mozione di sfiducia per il Sindaco Michele Emiliano. A far scattare la molla le pesanti dichiarazioni del primo cittadino per l'ennesimo scioglimento del Consiglio Comunale per mancanza del numero legale. Scioglimento lo ricordiamo causato dall'assenza di molti consiglieri di maggioranza. I consiglieri sono distratti, se vogliono il gettone devono guadagnarselo. Pungenti le parole di Emiliano rivolte tanto ai componenti dell'opposizione quanto ai suoi che non hanno certo gradito l'accusa. Cosa che fa ben sperare il centro-destra che sottoporrà la mozione anche alla firma della maggioranza. Non votarla, dichiarato quest'oggi in Innicea, sarebbe per loro una missione di colpa, pur essendo cosciente della quasi impossibilità dell'esito sperato. Ma il vero obiettivo è quello perlomeno di raggiungere i due quinti delle firme, limite minimo richiesto per l'approdo della mozione in Aula D'Alfino. L'importante è creare una discussione sul tema e parlarne con tutti. Ma se per i fedelissimi di Michele Emiliano il dubbio neanche si pone, un punto interrogativo sulla possibilità di firma c'è sul gruppo misso, in cui stazionano da sempre diverse personalità difficili da controllare. Qual è l'esito lo si capirà nei prossimi giorni. Abbiamo presentato a mozione di sfiducia al sindaco Emiliano nella consapevolezza che pur occorrendo 18 firme, il centro-destra era presentato in consiglio comunale da 13 consiglieri. Auspichiamo la sottoscrizione di quantomeno di 5 consiglieri di centro-sinistra perché si apre il dibattito nell'aula consigliare sull'attività amministrativa e chiaramente in relazione a quelle che sono state le accuse del sindaco, rivolte in particolar modo ai suoi consiglieri, ai consiglieri di centro-sinistra, verso i quali è stata, dal sindaco è stata debitata una sorta di inoperosità. E siamo alla cronaca. Un uomo è morto folgorato mentre si arrampicava su un traliccio della rete elettrica, probabilmente con l'intenzione di rubare cavi di rame. Il fatto è accaduto questa mattina a Carbonara. I dettagli ce li fornisce Cristina Ferrigni. È l'ennesima vittima di quel rischioso diffuso fenomeno criminale del furto di rame che per poche decine di euro mette a repentaglio la vita di persone disposte a tutto pur di guadagnarsi la giornata. Sanno il rischio altissimo a cui vanno incontro, ma non sempre la sorte è clemente, così come è accaduto oggi ad un uomo di cui non si conosce ancora l'identità, rimasto folgorato mentre tentava di rubare rame su un traliccio tra le campagne della strada che collega il quartiere di Carbonara con Poggio Franco. Complicate le manovre dei vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima che era riuscita a salire fino in cima al palo dell'alta tensione. Sulla tragedia indagano i carabinieri della Compagnia San Paolo. sarà il medico legale a stabilire con certezza le cause della morte, anche se quasi certamente si tratta di folgorazione. Quello dei furti di rame, il cosiddetto oro rosso, è un fenomeno in crescita e il valore di mercato di questo elemento, fino a 6 o 7 euro al chilo, è la sua capacità di essere riciclato con una resa del 100% ad aumentarne la richiesta. Le tonnellate di rame rubate finiscono sul mercato illegale, quindi difficilmente rintracciabile anche dalle forze dell'ordine che tentano di arginare il fenomeno contrastando il riciclaggio di questo materiale. Chi ruba il rame è costretto a rivenderlo in tempi rapidi. In genere i ricettatori sono i grandi rivenditori italiani, nella maggior parte dei casi i titolari di fonderie. Per questo motivo negli ultimi mesi si sono rafforzati i controlli degli organi competenti nei depositi di rottami e di materiale ferroso. Si sono sentiti male dopo aver preparato e mangiato una torta a base di hashish. Per questa ragione 5 studenti tra i 18 e i 19 anni sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale. L'episodio è avvenuto ieri sera in un appartamento del rione San Pasquale in via Pisacane a Bari. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia della questura di Bari e personale del 118. I 5 si erano riuniti nell'appartamento e avevano confezionato una torta inserendo tra gli ingredienti hashish impastato con il burro. Gli studenti che hanno trascorso la notte in ospedale sotto osservazione e che sono stati dimessi questa mattina sono stati poi segnalati all'autorità amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti. La polizia ferroviaria di Bari ha sottoposto a fermo un cittadino albanese di 20 anni senza fissa dimora, ritenuto all'autore di una rapina messa a segno qualche sera fa in piazza Aldomoro davanti alla stazione centrale. Vittima una cittadina barese colpita a calci e pugni sferrati dall'aggressore per assicurarsi il bottino. Il malvivente le ha strappato dalle mani la borsa con tutto il contenuto, 300 euro circa, oltre ai documenti personali. Durante la fuga però il rapinatore è caduto dalla tasca il cellulare, raccolto dalla donna e consegnato da quest'ultima alla polizia. Ebbene proprio grazie a quel cellulare gli agenti sono riusciti a risalire all'identità del responsabile. Cambiamo argomento. Ex dipendenti delle case di cura irruinite sono stati convocati questa mattina dal presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli, dopo la richiesta da parte loro di un incontro con le istituzioni locali. Vediamo. Dobbiamo lavorare sull'articolo 19 della legge numero 4. In linea di principio quel dispositivo approvato dalla regione Puglia andava nella direzione di intercettare un bisogno e di trovare una soluzione. Ci rendiamo conto a distanza di due anni che quella soluzione non si è raggiunta. Finisce sul banco degli imputati l'articolo 19 della legge regionale numero 4 del 2010 che avrebbe dovuto ridare speranza agli oltre 400 lavoratori delle case di cura riunite in cassa integrazione da 17 anni. Ne è convinto il senatore del PDL Luigi D'Ambrosio Lettieri che è pronto a rivedere la legge e a trovare una soluzione urgente per la ricollocazione degli ex dipendenti delle case di cura. Lo ha dichiarato oggi nella riunione convocata dal presidente della provincia Francesco Schittulli che ha chiamato a raccolta una rappresentanza dei lavoratori dopo la richiesta da parte di questi ultimi di un incontro con le istituzioni locali. Schittulli ha risposto all'istanza e seppur impossibilitato ad entrare direttamente nel merito della vicenda ha rivolto l'ennesimo appello al governo regionale affinché intervenga sulla questione. Sono 400 i dipendenti delle case di cura riunite in cassa integrazione a 420 euro da 17 anni dal 1994. Hanno quasi tutti tra i 50 e i 60 anni donne e uomini. Si tratta di lavoratori che potrebbero trovare una giusta collocazione soprattutto presso l'ASL e invece si incischia. Mi chiedo quanti assunti ci sono stati in questi 19 anni e perché non sono stati definitivamente assunti questi lavoratori. Estendere la normativa di agevolazione fiscale in materia cinematografica ad altri settori dello spettacolo è l'obiettivo della proposta presentata dalla Camera di Commercio Italo-Orientale ad una rappresentanza di parlamentari pugliesi. Le motivazioni della richiesta di modifica dell'articolo 1 della legge 244 del 2007 sono state illustrate oggi dal Presidente della Camera di Commercio Italo-Orientale Antonio Barile. Un'esperta in make-up a disposizione delle donne che si sottopongono a cure chemioradioterapiche e l'iniziativa promossa questa mattina all'interno dell'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II. Vediamo. Una maratona di trucco con tanto di insegnante esperta in make-up a propria disposizione dedicata alle donne che seguono cure chemioradioterapiche. Si esulta questa mattina per il terzo anno consecutivo nell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II. Un modo per affrontare al meglio e perché no con un sorriso, un momento così difficile nella vita di queste pazienti. L'iniziativa, sostenuta dal professor Antonio Quaranta, direttore generale dell'Istituto e dalla direttrice sanitaria, dottoressa Maria Pia Trisorio Liuzzi, è proposta dalla UALCEON, l'USA ha toccato ben 10 regioni italiane, 3 città spagnole e una serba. Io devo ringraziare l'associazione VALCE, Women Against Lung Cancer in Europe, perché in questo mese, novembre, mese dedicato ai tumori polmonari, ha voluto fare un'iniziativa che va un po' al di là di quella che è la nostra attività prevalente, che è l'attività assistenziale e terapeutica. Ha voluto prendere e fornire ai pazienti un piccolo momento di solidarietà, di socialità, legato a, prendendo spunto da quella che è una delle situazioni più frequenti in corso di terapie, la perdita delle caratteristiche estetiche nelle quali uno si riconosce. Come star meglio con il trucco? Attraverso piccoli accorgimenti e segreti, un momento di coccole, leggerezza, di confronto e soprattutto di supporto. Lo ha definito così la psico-oncologa Claudia Cormio. È importante poter garantire alle pazienti uno spazio qui in ospedale, che non sia uno spazio, un luogo in cui poter parlare solo di malattia, ma anche uno spazio in cui poter conoscere altre persone, confrontarsi e potersi dedicare alla cura di sé e del proprio corpo, nonostante gli effetti collaterali delle chemioterapie. È stata presentata questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città Eternità, la mostra di pitture, sculture e fotografie legate al tema della presenza di amianto sul territorio e più in generale ai temi dell'inquinamento ambientale urbano. L'evento, che è goda del patrocinio di comune, provincia e regione, è organizzato dal Comitato Cittadino Fibronit, dall'Associazione Familiare Vittime Amianto e dalla Sigea Sezione Puglia. La mostra, realizzata grazie al coinvolgimento della Fabbrica degli Artisti, sarà allestita presso il Centro Polifunzionale degli Studenti dell'Università degli Studi di Bari Aldomoro, dal 21 al 30 novembre prossimi. E siamo alle previsioni del tempo. Per le prossime ore, previsti piogge e rovesci di temperature comprese tra i 12 e i 16 gradi, venti moderati e mari poco mossi. In chiusura, come di consueto, vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it, radiobari.net e infochiocciola ilsegnodizorro.it Ed è tutto per il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e restate con noi su Telebari. Grazie per averci seguito e restate con noi su Telebari.